Cari amici di Ancora Italia Sovrana e Popolare, di democrazia sovrana e popolare, buona domenica. Siamo addivenuti ad una conclusione, abbiamo a lungo riflettuto sulle cause che provocano una endemica debolezza nel campo dei cosiddetti resistenti, di quelli che hanno imparato a disistimare il sistema di potere che di volta in volta presenta burattini diversi che rispondono però sempre alle stesse centrali di potere. Abbiamo subito una violenza molto importante nel corso degli ultimi anni, i soliti noti governati da Schwab, Bill Gates, Soros e compagnia cantante hanno cercato di cambiare il nostro sistema democratico, hanno annullato le nostre libertà e lo hanno fatto cavalcando delle emergenze costruite in vito. Dicevano di farlo nel nome della scienza. Leggendo adesso le carte che vengono fuori dall'inchiesta della procura di Bergamo ci accorgiamo che avevamo avuto sempre tristemente ragione. Speranza, Sileri e compagnia non rappresentavano nessun primato scientifico, erano soltanto dei pessimi personaggi che litigavano fra di loro sulla pelle degli italiani. Ma questo sistema di governo, questa governance fondata sull'utilizzo della paura come strumento di potere, non finisce con la dichiarazione di chiusura di questa pandemia utilizzata politicamente dai globalisti. Abbiamo combattuto nelle piazze, abbiamo cercato di mettere insieme l'Italia migliore, quella che aveva compreso, che aveva capito per tempo quale menzogna era stata posta al centro del dibattito pubblico, ma questo non è naturalmente bastato per cambiare i rapporti di forza. Dobbiamo amaramente constatare che esiste nel Paese una radicata fetta di società che non crede nel metodo politico. Preferisce astenersi, è genericamente antipolitica, allevata da cattivi maestri come Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. Questa parte di italiani che potrebbe aiutare la definizione di un'area del dissenso, coesa, forte, ideologicamente orientata, decide per principio sulla base di motivazioni non politiche ma umorali, di tirarsi fuori dalla battaglia politica, non individuando nessuna soluzione alternativa, in più delle volte auspicando una non meglio precisata rivoluzione delle coscienze che dovrebbe portare in un tempo indefinito al cambiamento collettivo sulla base di un lavoro individuale. Si tratta naturalmente di una piattaforma illusoria che getta fumo negli occhi e che serve in maniera più o meno consapevole gli interessi di chi comanda perché invita all'astenzione e all'inerzia milioni di cittadini che in realtà potrebbero mettere in discussione gli assetti dominanti. C'è poi una parte di cittadini che invece vuole partecipare, vuole contare, vuole esercitare i diritti di sovranità pro quota che la Costituzione assegna ad ogni cingolo cittadino. Tante persone si sono unite alla nostra battaglia, combattute in condizioni disperate il 25 settembre, noi d'Italia sovrana e popolare, adesso democrazia sovrana e popolare, ci siamo scontrati contro un livello di potere che gestiva tutto, gestiva la comunicazione, gestiva i grandi media, gestiva i flussi finanziari, decideva chi aveva accesso al dibattito e chi doveva essere silenziato, eppure siamo riusciti con un vero e proprio miracolo a partecipare alle elezioni conquistando la fiducia di centinaia di migliaia di cittadini che hanno potuto conoscerci soltanto nell'ultimo mese di campagna elettorale. Una campagna che è stata per noi difficilissima anche perché dovevamo scontrarci non soltanto contro un potere maggioritario che ha fatto di tutto per tenerci in un angolo, ma eravamo costretti a competere nel nostro campo con personaggi come gli ex grillini Paragone e Cugnall che non hanno mai voluto intavolare una vera, seria trattativa per unire le forze, credo perché il loro obiettivo non era tanto quello di costruire una vera alternativa, ma di favorire la frantumazione per difendere interessi non pubblicamente confessabili. Con questa è la mia sensazione, rimango pienamente convinto di questo, altrimenti tutti gli appelli che avevamo lanciato all'Unità e a Paragone e a Cugnall in termini pubblici e privati non sarebbero stati respinti al mittente. Ora è inutile guardarsi indietro, è inutile tornare a ragionare di quella fase, dobbiamo pensare invece a come fare adesso per non ripetere gli errori del passato e per migliorare in futuro al fine di fare uscire dall'irrilevanza la nostra area politica. Sportunatamente esiste una frammentazione ricorrente, spesso avallata da personaggi con scarso spessore, politico che hanno alimentato le piazze e si pongono a capo di gruppetti più delle volte senza vero consenso, scatole vuote che generano sempre confusione e non sono mai questi gruppetti, queste liste più o meno rappresentative utili per la definizione di un'area politica che sia in grado di mettere in discussione il sistema che oggi ci governa. Per questo democrazia sovrana e popolare è il primo serio tentativo di sistematizzare in termini coerenti un'area del dissenso che deve uscire dalla logica emergenziale e adolescenziale, non può vivere soltanto di rimessa, cioè riunendosi di volta in volta su base emotiva per protestare contro questo o quel provvedimento infame del governo, il compito di una classe politica lungimirante è quello invece di stratificare, pianificare, costruire, presentare un progetto ideologico alternativo che valga sempre, sia nei momenti di emergenza vera o presunta, sia quando in realtà la dialettica politica è più serena. Anche al fine di realizzare questo obiettivo, perché come bene diceva Gramsci, non esiste rivoluzione senza teoria rivoluzionaria, abbiamo deciso di offrire un strumento concreto, pratico, lucido, forte e coerente, uno strumento intellettuale che ci aiuti a fare un salto di qualità, uscire dalla mera protesta, dal tentativo di cambiare le cose soltanto urlando e protestando per invece tenere insieme un'area politica che può abbeverarsi a delle nuove fonti culturali per accrescere il senso critico e la capacità di reazione rispetto al pessimo sistema che oggi ci governa. Nel mese di maggio vedrà quindi la luce il primo numero del nostro nuovo mensile di geopolitica, cultura e economia che con ogni probabilità non si chiamerà logos, che non possiamo utilizzare questo nome, ma si chiamerà visione, un altro sguardo sul mondo. Ecco, questo mensile accoglierà le riflessioni, le voci, i pensieri dei migliori intellettuali che la nostra area esprime per offrire alla pubblica opinione uno strumento in grado di essere utile per orientare tutti quei cittadini che vogliono ragionare intorno ai temi della modernità su base non emotiva ma lucida, critica, fredda e affrontare quindi queste tematiche in maniera razionale. Mi auguro che ognuno di voi possa aiutare questo sforzo che Visione TV, che adesso pubblicherà, mediterà anche questo mensile, sta affrontando proprio con l'obiettivo di portare fuori dal dilettantismo tutti quei cittadini forti, coraggiosi che insieme a noi hanno combattuto negli ultimi anni contro la dittatura sanitaria, contro le vergognose imposizioni costruite, soffiando sul fuoco di un'emergenza pandemica che serviva per lo più i padroni, un gruppo di persone che oggi non godono di nessuna rappresentanza politica perché il sistema si è blindato e attraverso dei meccanismi truffaldini ha di fatto impedito a tantissimi italiani di poter godere di una legittima rappresentanza in Parlamento. Ci sono poi da affrontare in termini sempre molto forti e chiari i temi della pace. La guerra in Ucraina non accenna a diminuire, anzi il rischio di escalation si fa ogni giorno più concreto e anche per questo insieme all'amico Enzo Pennetta, che so che dialoga in spirito di armonia anche con il professor Ugo Mattei, siamo convinti della bontà di dover chiedere alla correttezza, di dover chiedere al popolo italiano di esprimersi per il tramite di un referendum popolare sulla cessazione dell'invio di armi all'Ucraina che non servono per fermare il conflitto ma continuano soltanto ad alimentare una indegna e tragica spirale di morte. Questi sono i temi che noi dobbiamo affrontare e lo faremo con costanza, con lucidità, cercando il più possibile di rimanere lontani dalle atmosfere un po' bambinesche, che alcuni finti contestatori, noti demagoghi, gruppettari oramai invecchiati e per giunta invecchiati male, cercheremo di volare alto per non correre il rischio di dover incontrare questi personaggi che fanno di tutto per impedire che dentro l'area del cosiddetto dissenso cresca una posizione seria, stabile, in grado di cambiare veramente i rapporti di forza. Vi chiedo quindi aiuto, cari amici di Ancora Italia Sovrana e Popolare, di Democrazia Sovrana e Popolare e Divisione TV, perché questo progetto culturale risulterà decisivo per fare un salto di qualità non più rinviabile. Senza fare crescere una consapevolezza politica all'interno del nostro mondo, i fallimenti si ripeteranno. Come noi faremo di tutto affinché ciò non avvenga e daremo sempre il massimo, non arretreremo di un millimetro fino a quando non sapremo che questi personaggi eterodiretti dall'esterno non verranno messi in condizione di non nuocere. Ci sono milioni di cittadini che hanno compreso, che non hanno nessuna intenzione di farsi più manipolare dagli strumenti della propaganda NATO che vengono usati in maniera spregiudicata dai soliti padroni. questi cittadini adesso possono esprimere un potenziale politico attraverso strumenti culturali, di pensiero, informativi e, perché no, di pura politica. Vi invito quindi a maggio ad acquistare e a leggere la prima copia del nostro mensile di attualità politica, geopolitica, cultura e economia, che si chiamerà con ogni probabilità della visione un altro sguardo sul mondo per costruire insieme una comunità di pensiero che, pensando, cambia la realtà materiale. Grazie ancora a tutti voi, una buona domenica.